Ciao, sono Joy Martina. Sono appassionata dell'aiutare le persone a entrare nel pieno potere, eliminando tutto l'autosabotaggio che hanno magari nascosto nella mente inconscia, nel profondo. Ciao, sono Roy Martina e la mia specialità è aiutare le persone con la connessione corpo-mente, quindi i pazienti che stanno male. Io insegno a usare la mente per stare meglio, ma anche gli uomini di business. A loro insegno a usare la mente per avere risultati migliori, essere felici, vitali, più a lungo possibile e anche in buona salute. E questo è il primo consiglio per voi, il primo tip. Uno, siate grati. Molto spesso nella vita ci concentriamo su quello che non ci piace o quello che non ci rende felici. Noi invece suggeriamo, invece di fare così, di concentrarci sulle piccole cose, quelle cose che trovate nella vita e che vi fanno sentire felici, che vi fanno sentire grati per quello che avete. Ad esempio, la maggior parte di noi ha un tetto sulla testa, ha il cibo sulla tavola, ha degli amici che ci vogliono bene, abbiamo persone amate, abbiamo tantissimo nella nostra vita, tante cose per cui essere grati. Quello che succede quando siamo grate in questo stato di gratitudine è che il cervello automaticamente si sposta in uno stato di felicità, inizia a produrre endorfine, inizia a fare una serie di cose che sollevano lo spirito, che ti fanno sorridere, automaticamente ti fanno stare bene. Allora se lo fai più spesso puoi davvero allenare il cervello, essere più positivo, ad avere un atteggiamento positivo verso la vita e sapete che cosa succede a quel punto? Attirerete ancora cose migliori, cose per cui essere grati, più amici, più felicità, più gioia nella vita, più successo al lavoro e un corpo pieno di salute, oltre a tutto il resto. Quindi prima di andare a dormire ogni sera, anche se avete avuto una brutta giornata, pensate alle cose che sono andate bene nella giornata, pensate alle cose per cui essere grati e portate queste cose nei vostri sogni, fate che questi siano gli ultimi pensieri della giornata, ogni giorno quando poi vi alzate fate la stessa cosa. Quindi prima di uscire dal letto pensate alle cose per cui potete essere grati, un buon sonno, il letto morbido in cui avete dormito, la colazione che state per fare, qualunque cosa, anche le cose molto piccole faranno una grande differenza. Quello che vorrei aggiungere in quanto medico è che la maggior parte delle persone si concentrano su quello che non vogliono. Per esempio, hai un dolore alla spalla e se io ti chiedo che cosa vuoi, mi dici non voglio questo dolore alla spalla. Quindi concentrandoci su quello che non vogliamo, in realtà peggioriamo la situazione. Quindi quando insegniamo ai nostri pazienti a concentrarsi sulla gratitudine, li aiutiamo a passare dall'atteggiamento di vittima all'atteggiamento di vincitore, qualcuno che andrà benissimo nella vita. Quindi più riusciamo a concentrarci su quello che va bene nella vita e meno energia va nelle cose che non ci piacciono. E questo è il potere della guarigione, quindi concentrandoci su quello che ci piace, creiamo energia positiva. E questa energia positiva sarà usata per il processo di guarigione, anche quando lavoro con i direttori, con gli atleti, persone che si concentrano sul successo. Ebbene, quando guardiamo le cose che sono andate bene nella vita, questo mantiene un'attitudine mentale positiva e uno sa di avere successo e questo dà più coraggio e più energia per poter affrontare le sfide più grandi nella vita. Quindi concentratevi sull'atteggiamento e premiatevi riconoscendo quello che va bene nella vita. In questo modo attirerete cose ancora più positive. Questa è una regola semplice, una cosa che tutti possono fare.